Questa generazione, quanti designer hai detto in Europa? Circa 140 E fan paura, una città piena di desideri, cercano di fare, elettrono tutti, mandano email, vogliono... Poi è un problema, no? Perché l'anno prossimo ce ne saranno ancora, perché le scuole vomitano... Ormai il vero visto, se sappiamo, è le scuole, sono le scuole di design. Cioè vendere l'illusione a tutti di progettare, di fare, dentro tutti. Poi quando vanno fuori, cioè noi siamo molto attenti a sviluppare e a discernere fino in fondo questo rapporto qua con l'uomo artigiano, la lentezza, la qualità, i materiali, la lavorazione, i distretti, la qualità, la storia, il sapere antico, il sapere moderno. Generiamo, produciamo, facciamo produrre, autoproduciamo degli oggetti meravigliosi e poi per l'uomo è tutto quel progetto invece economico che deve supportare tutta questa azione qua. Perché sia un'azione autoreferenziale per dire quanto sono bravo a fare questa seggiorina qua, o recuperare questa lavorazione, o ad avere il rapporto con l'artigiano che sta sotto casa, ma poi sono cose che restano a casa mia e non vada nessuna parte. È una situazione di una struttura economica che possa sorreggere tutto questo fare nostro, perché se no non si va da nessuna parte. Se crediamo ancora che il sistema distributivo del secolo passato sia il sistema giusto, io questa esperienza qua l'ho già fatta. Siamo alla vicina di un salone dove credo che ancora una volta, forse sarà l'ultimo anno, andrà in scena quello che pensiamo tutti sia la realtà. Invece io sento molto, perlomeno, sento molto sulla mia pelle questo, mi si pare che tra un po' si chiude veramente. E' un sistema che non funziona più, io penso che sia un sistema che non funziona più. Lo teniamo in piedi con la forza, l'anno scorso con i denti, quest'anno con i gengivi i denti sono consumati, io spero che succeda qualcosa, forse una deflagrazione silenziosa e torneremo ancora ad occuparci delle minime cose, delle produzioni a misura di persona, per esempio.